in un'altra condizione sarei riuscito a scegliere meglio le parole qualche sinonimo una nuova impostazione un tono nuovo che desse l'impressione che desse l'impressione che ci credessi davvero nella mia condizione invece penso che va come deve andare che la passione tra persone nasce e muore per poi rinascere in persone che sono nuove spesso avuto più fortuna io che per vedere tutto bisogna andare veloci e lenti coi propri tempi riempire le mani e la faccia di segni regali da portare in giro senza aver paura veloci e lenti sfruttare i venti delle passioni che muovono soffiano tirano accendono sospendono per poi lasciarti andare nuovamente a nuovi eventi sarà la verità sarà la libertà che quando non ne vuoi c'è chi te ne concede a volontà se ne reclami un po' spesso non è vero come è vero quel pensiero che già ti porta via sinceramente bugiardo nella mia condizione sarà che vince la passione per il viaggio ho una presunta mancanza di coraggio ma se vivo di abbraccio in abbraccio la vita abbraccio sono una casa anch'io costruita come un treno che vuole andare veloce e lento girare il mondo solo in ritardo e in anticipo senza un orario un percorso già svolto lo stesso binario veloce e lento tentare il resto cercando il passo più adatto a un ritratto uno scatto in salita coraggio in discesa più saggio lentamente veloce e lenti sfruttare i venti delle passioni che muovono soffiano, tirano, accendono, sospendono per poi lasciarti andare nuovamente a nuovi eventi e o Grazie a tutti